Questo non aspetta mai, io sono il capogruppo in giunta. Il video non l'ha più fatto, doveva fare il video per la votazione sul sito. Attenzione che vi fate male. Come mai non l'ha più fatto? Scusate, io ho le stesse informazioni vostre per ora, quindi non siamo in grado di commentare. Lei un tempo vera per difendersi nel processo e non dal processo. Ascolti, questa sera sono altri che hanno problemi di processi, non certo noi.